partito il primo quarto di finale segno maschi con roberto fiorito alberto salino fiorito all'esterno salino fa tutta la curva all'esterno alberto salino la seconda posizione davanti alberto fiorito per il nostro quarto di finale con il campione del mondo junior di un paio di stagioni fa allora cremaschi cremaschi salino e fiorito arrivano insieme dove dovrebbe essere cremaschi sicuramente e probabilmente salino ma ci sarà bisogno delle foto film e salino ma diciamo confermato cremaschi e salino ai in semifinale e oggi subito davanti e oggi e soviani ragazzi la posizione del giallo albignasse che sono leggermente attaccati ma sono andata solo alla cappara dell'ultimo giro giro e soriani con mazzo del grande hanno perso contatto un paio di curva intanto 42 e 0 ha fatto la partenza avanti lì Duccio Marsili con la Mallorca che si fa a metterla in seconda posizione dove ha credito la struttura più in accolta sono due dei nostri migliori e andò in me ne andando in questa posizione dai 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 rimane al secondo posto avanti salino scusate Marsili Mallorca e salino Duccio Marsili vince il Pagliotta lotta per la seconda posizione Mallorca caldo vince il 41 e 23 con un quarto di un 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 di Andrea Angeletti ma sono loro Denis Agoli Andrea Angeletti 41,79 ci vediamo più tardi